buongiorno a tutti oggi venerdì 26 giugno e parliamo di analisi ciclica evoluta sul dax e poi sul fuzzini in questo momento i future sono leggermente positivi più 64 punti per il dax e più 95 per il fuzzini e vediamo un po che cosa aspettarsi della giornata allora come detto nell'analisi serale di ieri vi suggerisco sempre di andarla ad ascoltare qui noi siamo arrivati a fare un bel t-2 pieno 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 t-2 inverso ripeto dai massimi discesa massimi ok per cui se osserviamo anche da dove è partito effettivamente il secondo t-3 inverso il secondo giornaliero inverso è arrivato teoricamente alla bellezza di 44 barre e quindi teoricamente se si aprisse anche in apertura con appunto una conferma del più 66 punti bisognerebbe vedere se come tante altre volte si andrà a fare un ups di Williams ovvero ci si rimangerà il tutto dopo un t-2 inverso abbiamo che solitamente parte un nuovo t-2 inverso e per partire richiede perlomeno un tre ore minimo 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 di rialzo di inverso e quindi sapete di che cosa di indice per dar vita appunto a un secondo t-2 inverso una seconda onda inversa su questo noi abbiamo puntato quando siamo rimasti short in overnight vedremo se pagherà anche perché il nostro prezzo non è distantissimo da quello attuale e siamo disposti ad entrare con un secondo chip per un discorso di money management era una delle cose che avevo segnalato al gruppo di persone che mi dà più tempo ha deciso di conferire più tempo l'analisi ciclica voluta per studiare con me i mercati per essere coordinata e muoversi come anzi muoversi osservando tutti insieme il mercato e quindi traendo da ogni spunto delle informazioni interessanti nel caso appunto partisse il nostro secondo t-2 inverso ritorneremo verso questi livelli verso i 12.100 orientativamente e poi dobbiamo provare a spingere ancora più in basso ricordiamoci che come vedete siamo pieni di raccordi quindi potrebbe esserci persino un raccordino prima di una partenza ma ecco sono sempre cose che purtroppo andiamo a vedere alla fine non possiamo per ora anticipare ma ci sto studiando sopra e quindi voglio trovare un modo appunto come un tempo facevo per raggiungere un obiettivo che ritengo estremamente interessante faccio notare per carità che qui abbiamo una divergenza ribassista ma essendo già di medio periodo non di brevissimo non è la cosa da osservare bisognerà vedere effettivamente se questa regge rispetto all'apertura se questo massimo ha 12.346 regge rispetto all'apertura che avremo questo per quanto riguarda il nostro DAX per quanto riguarda il Fuzzimib stesso identico ragionamento comunque da qui è partito il nono t-3 perché se è partito il nono t-3 si può rivare fino a 10 11 t-3 e se da qua è partito già non soltanto un t-1 ma qualche cosina di più io mi tengo sempre scarso ma iniziamo a mettere perlomeno questo dobbiamo avere di nuovo spinta verso il basso per la partenza di un secondo t-2 inverso tutto simile quindi si ritornerà si dovrà ritornare teoricamente verso questi livelli e poi vedere appunto se ci sarà spinta per andare anche più in basso vi faccio vedere soltanto questo ultimo grafico qui ok abbiamo che per ora tutto sembra corretto primo ciclo a 11 barre di inverso secondo che ha fatto 1-2 giorni già di ribasso e che dovrebbe continuare a dare spinta verso il basso teoricamente qui il t settimanale peraltro l'indice è capiente abbiamo ancora almeno due giorni al massimo di discesa perché siamo arrivati al nono t-3 poi può esserci appunto una ripartenza di t settimanale con conseguente ritracciamento del nostro t inverso questo è quanto mi auguro che questa analisi sia stata di valore per voi nel caso mettete un bel like come il solito pacca sulla spalla e nel caso sempre sottoscrivete il canale che è completamente gratuito e cliccate sulla campanella così vi avviserà quando ci sarà una nuova analisi bella di questa divergenza ribassista che ha già portato a questa e questa candela divergenze rialziste no, vedo solo convergenze ancora meglio buona giornata a tutti buona giornata a tutti